1, 2, 3 Quindi amici, io stavo cucinando a UoS Cooking A questo punto arrivederci alla prossima edizione del Poreta Soul Festival Alla 33esima dal 22 al 25 luglio 2021 E non mi resta che dire ciao a tutti! Ciao sono Giorgio Gardelli e quest'anno purtroppo non potremo vederci al Poreta Soul Festival Ma l'anno prossimo sì, l'anno prossimo saremo lì dal 22 al 25 luglio Un grande appuntamento per tutti gli amanti della musica solo e non solo Anche nella Buona Tamola a bere un ben bicchiere insieme a Graziano e a tutti gli altri amici Poreta 2021 Ciao amici, questo è Curtis Salgado I'm here in Portland, Oregon E look at what I'm wearing here Poreta Soul Festival I played there in 2019 and I had the best time And that's because my book is probably the most unique festival in the entire world Unfortunately, we will not be able to attend the Poreta Soul Festival this year But I'm certainly looking forward to seeing all of you at the Rufus Thomas Park At the next Poreta Soul Festival Until then, please, I wish you all good health All right, take care of yourself Ciao Hello, my name is Rosje Eister uit Monoek, Nederland Helaas kunnen we elkaar dit jaar niet ontmoeten op het Poreta Soul Festival in Italie Maar volgend jaar 2021 gaan we er samen iets moois van maken in het Rufus Thomas Park So, volgend jaar 2021, 2021, 2022, tot eno il 25 de juli See you all together See you soon Ciao Hey, ciao C'è me Prado, di São Paulo, Brazil Infelizmente, questo anno non staremos con voi Ma il anno che viene, di 22 a 25 di juli Poreta Soul Festival in Poreta Italia Hey, Poreta I'm quite sure you all know That the festival has been canceled For this year But don't you ever feel sad Because the festival will return Next year, July 2021 But you know what All we need to do Is we ought to do just one thing for Just hold on Poreta Soul Festival is coming Next year, July 2021 Look at here I'm on my way Your lover When you get cold Yeah, I'll be your cover Don't have to worry Because I'm here No need to suffer, baby Because I'm there Just hold on Poreta Soul Festival is coming, y'all Just hold on Graziano is bringing it back Next year Bigger, better And stronger than Elba The Poreta Soul Festival Hey, I'm Heikki Suosalo Espoosta, Suomesta I'm sure many of you remember I'm not sure It's really weird I'm not going to be able to meet This summer Poreta But I'm waiting for the meeting To all the people We're going to be able to meet The first summer Poreta Yeah, in July From the 22nd to the 25nd We're going to meet All of us again In Rufus Thomas Park And enjoy this festival Until then Everyone is healthy Ciao Ciao Graziano Sono Giovanni Tamburini Ti sono vicino In questo momentazzo In cui tutti siamo isolati in casa Come vedi Mi sto preparando Per il prossimo festival E spero di essere con voi Almeno sostenere Il grande festival E spero di essere con voi Yeah Quasi che non vince La scolla Non è via Con se è via Unico a tutti A tutti Ciao Poreta Siamo Maria Gennaro Da Napoli Ragazzi È andata come è andata Ma vi assicuro Che il prossimo anno Ci saremo Per bere tutti Insieme Al Rufus Thomas Park Yeah 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 Perissimi amici Del Poreta Sul festival Quest'anno Purtroppo Se ne è andato così Il virus Non ci ha dato scampo Ma noi non ci abbattiamo Perché già sappiamo Che nel prossimo anno Dal 21 al 25 luglio Ci sarà l'edizione del 2021 Quindi tutti insieme Ad aspettare Che arrivi questa data Per poter brindare A Rufus Thomas Park E perci una birra assieme Ok? Grazie a tutti Ciao ragazzi, sono Olivero Superbile cantante del Flauers di Blu Svevente. Purtroppo quest'anno il Paretta Soul Festival salta per causa del coronavirus, ma vi ricordo che quest'altro anno, tra il 22 al 25 luglio, saremo tutti lì e sarà una festa indimenticabile. Ciao e grazie. Det' Peter Astrup fra Blue Seven Festival in Danmark. Og vi kommer desverre ikke til Paretta Soul Festival i år, men se vi fanno i tuoi tuoi inna tu, sarebbe clara, i tuoi 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 inna tu. Ciao. Ciao, sono Pierpaolo Bisle. Quest'anno non potremo vederci, ma vi assicuro che il prossimo anno berremo qualcosa insieme a Rufus Thomas Park. Ciao ragazzi, sono Dino Nati e chiamo da Roma. Ricorda a tutti voi, sul man e sul uomo, l'appuntamento per il prossimo anno, dal 22 al 25 luglio 2021, allo Rufus Thomas Park. State per buono. Ciao. Ciao ragazzi, guardate come siamo ridotti, siamo ancora chiusi. Speriamo quest'altro anno di vederci ancora. Ciao, al prossimo anno. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.